Secondo Racing Podcast consecutivo, stavolta per tornare a parlare della Superbike, il campionato motoristico che io preferisco in assoluto, per parlare del round italiano che si è svolto appunto in contemporanea con la Formula 1 che ha corso a Baku, Azerbaijan. Ancora una volta a Misano Ducati protagonista come l'anno scorso dove ero andato a vedere dal vivo le due grandi vittorie di Michael Rinaldi. Michael Rinaldi che in qualche modo si conferma su alti livelli su questa pista perché farà due podi su tre gare, ma il vero mattatore del round italiano della Superbike è uno e uno soltanto, ovvero Alvaro Bautista che allunga anche una volta in testa al Mondiale in una diciamo gara clamorosa che veramente non ha avuto senso di esistere sia per quanto riguarda il sabato sia per quanto riguarda la domenica. È un Bautista che ha avuto un passo nettamente superiore alla concorrenza, in particolare Toppo Ragazzatioglu e ovviamente Jonathan Ray, Jonathan Ray che peraltro steccherà a gara 2 ma ci arriveremo però Bautista e i generali da Ducati ufficiale hanno veramente un moto di trionfo in questa gara di Misano perché appunto Bautista vince due gare su tre e allunga in testa al Mondiale e Rinaldi si riscatta con due terzi posti incredibili. Ma Bautista sembra veramente tornato quello della prima parte del campionato famoso del 2019, quello che in realtà purtroppo perse per errori suoi ed è in parte anche per il piatto spagnolo un riscatto così come per Rinaldi perché Rinaldi viene da una stagione al momento non esaltante. Bautista l'anno scorso, o meglio nel 2019 proprio a Misano iniziò la decisione da lente e inesorabile verso l'ublio nella perta del Mondiale nei confronti del cannibale Jonathan Ray. Qui invece Bautista ha messo evidentemente a posto la testa che è quello che conta soprattutto quando gareggi in un Mondiale a così alto livello sia con gente come Razgatioglu sia con gente come Jonathan Ray che sono veramente di altissimo livello anche loro ed è importante appunto per Bautista allungare in testa al Mondiale perché mi aspetto che comunque la crescita sia di Razgatioglu sia di Ray possa ritornare. L'avversario più temibile in realtà per Bautista è il cannibale Jonathan Ray. Jonathan Ray che però è una delle delusioni del giorno in realtà del weekend di Misano perché in realtà sappiamo che Razgatioglu si è riscattato e ha vinto anche la gara sprint della domenica mattina per il primo successo in stagione per il lapinata turco per il quale suona il sogno nazionale appunto per la prima volta quest'anno beva la marcia dell'indipendenza Razgatioglu che comunque poteva agilmente difendere un podio in gara 1 che però gli è stato negato da un problema tecnico in gara 2 invece fa una grande bella prestazione il numero 1 campione regnante di categoria e vince appunto la Super Bowl Race non gara 2 è meglio, gara 2 è quella da domenica pomeriggio. evidentemente una gara più breve di 11 giri in meno rispetto ai 21 tradizionali ha fatto sì che le qualità di Razgatioglu venissero fuori e avesse anche la meglio su un Alvaro Bautista che qui invece è apparso un pochino più in disarmo fatto sta che Bautista avrà tempo e modo di rifarsi in un'altra gara leggendaria una gara che avrà anche qui modo di dominare senza se e senza ma e dunque per la seconda volta in tre gare suona la marcia reale per il leader in contrastato di questo mondiale Super Bowl 2022 in contrastato perché comunque in questo weekend di Misano e anche evidentemente il round scorso Aestoril ha avuto modo di saper vincere in più modi diversi perché a Misano ha vinto dominando Aestoril ha vinto anche in volata ma lì c'era un top veramente suntuoso che sarà un altro grande avversario quest'anno hanno detto che comunque con il retiro di gara 1 probabilmente il turco è leggermente indietro nelle gerarchie per il titolo e mi aspetto più un duello Jonathan Ray-Alvaro Bautista però comunque vedere un Bautista riscattarsi a Misano è qualcosa di incredibile appunto perché nel 2019 iniziò la perdita del mondiale che poi appunto andò al cannibale cannibale che in realtà si difende in qualche modo nella classifica mondiale anche se è evidente come il pilota nordirlandese sia abbastanza giù di giri in questo momento perché è vero che fa secondo e terzo ma c'è un clamoroso quarto posto in gara 2 un quarto posto che non rende giustizia evidentemente al pluricampione del mondo ma è altrettanto evidente che Ray non aveva evidentemente il passo da tenere nei confronti peraltro di un Michael Rinaldi che bissa due podi in due gare Rinaldi sappiamo che è veramente imbattibile o comunque è un pilota che non è trascurabile meglio a Misano ricordiamo che il 21 ha vinto due volte l'anno scorso se qui ha fatto due volte terzo vince appunto due volte Bautista che allunga in classifica 220 il cannibale della giornata del Ray è comunque secondo ma a 184 punti che sono veramente un'eternità d'accordo che siamo neanche a un terzo di mondiale però è evidente come questo distacco sia difficilmente connabile d'accordo che sappiamo che Ray difficilmente sbaglia ma con questo Bautista che non si è mai ritirato e ha sempre fatto podio è veramente difficile competere attenzione però che appunto Bautista non è nuovo a cali di concentrazione e lì i veri campioni poi verranno fuori Ray e Rasgatioglu su tutti Rasgatioglu che è appunto un po' abdica e ha un distacco praticamente superiore agli 80 punti ed è terzo in classifica generale del campionato dei Big 3 abbiamo sempre visto il turco, lo spagnolo e il nordirlandese spargersi e espandersi diciamo tutti i podi possibili, immaginabili e il Superbike è evidente come il ritiro di Rasgatioglu e il quarto possibile abbiano lasciato spazio meglio scusatemi a Michael Rinaldi che senza dubbio è uno dei rider del giorno perché appunto come dicevo prima si riscatta e compie evidentemente la miglior gara diciamo della stagione per in generale dei piloti italiani che hanno fatto relativamente bene anche se appunto Rinaldi è l'unico che è andato a podio i piloti italiani hanno regalato comunque prestazioni parecchio interessanti su tutti Axel Bassani perché è in gara 1 complice anche il ritiro di Rasgatioglu fa una straordinaria quarta posizione il motivo per cui il pilota veleto del team motocorsa si becca senza se e senza ma il mio premio di rider del giorno uno dei premi del rider del giorno perché abbiamo detto Rinaldi se lo prende per quanto riguarda il riscatto del weekend Bassani se lo prende evidentemente perché ha fatto tre top ten nel giro di due giorni sostanzialmente in tre gare qualcosa di clamoroso con una Ducati del team motocorsa che è iper mega privata e chissà che in futuro per il pilota veleto non ci sia spazio in un team ufficiale qualora magari un domani Alvaro Bautista decidesse di ritirarsi magari non quest'anno ma l'anno prossimo magari tra due anni vedere un Bassani in Ducati ufficiale sarebbe sicuramente un qualcosa di molto meritocratico perché abbiamo già visto l'anno scorso come Bassani in questo team ha fatto veramente grandi cose e qui li ha assolutamente bissati gli altri italiani abbiamo un Roberto Tamburini che fa punti importanti al rientro dall'infortunio undicesimo e dodicesimo in gara 1 e in gara 2 fuori dai punti nella sprint race altri italiani presenti in questa competizione Andrea Locatelli che fa tre sesti posti di fatto in linea con le prestazioni delle ultime gare anche Storiel abbiamo visto come pilota bergamasco abbia fatto evidentemente il suo competere con i Big 3 al momento è praticamente impossibile e in caso di The Battle al momento Locatelli non ha fatto quel quid in più come magari abbiamo visto a Assen dove invece ha fatto podio c'era un altro italiano presente in questa competizione che è Alessandro Delbianco uno dei miei piloti preferiti in realtà della Superbike però qui correva con una moto non competitiva la Kawasaki del team Pedercini e purtroppo Delbianco ha fatto tre zeri consecutivi chi invece è cresciuto tanto in questo weekend di Superbike è sicuramente la onda ufficiale è una onda ufficiale che si becca secondo me il premio di squadra del giorno e in particolare abbiamo visto un Iker Lecuona clamorosamente cresciuto con appunto piazzamenti incredibili soprattutto quinto posto in gara 2 è qualcosa di incredibile per il pilota che di fatto è uno scarto della MotoGP ma comunque molto molto giovane abbiamo visto come in una squadra magari dove evidentemente c'è dello sviluppo c'è del buon materiale dove lavorare è evidente come appunto le prestazioni siano livellate verso l'alto non lo quinto e quinto per l'ex pilota del KTM Tektroi MotoGP altro grande prestazione è stata quella di Ciavi Vierga che è vero si stende malamente in gara 2 con una mina terrificante ma comunque fa settimo e quarto al netto che comunque questa Honda la nuova Fireblade CBR1000RR ha fatto dei passi in avanti mica indifferenti e dunque anche qui abbiamo un'altra scuderia competitiva oltre ovviamente Kawasaki Ducati e Yamaha Honda è cresciuta chi invece ha deluso e qui passiamo all'altra faccia della medaglia sono in particolare due piloti uno in realtà per prestazioni veramente deludenti parliamo di Alex Lowe's che probabilmente si merita la delusione del giorno perché con la seconda Kawasaki ufficiale si è dietro addirittura Bassani che è una Ducati privata è stata battuta la seconda Yamaha di Andrea Ducatelli moto che lo sbatteva con una certa costanza l'altra delusione è in realtà la BMW ufficiale che raccoglie veramente le briciole perché il migliore è lo scottone nazionale Scott Redding che fa decimo e nono in gara 1 e in gara 2 ma veramente in disarmo addirittura in alcuni tratti sembrava che la BMW cliente del team Bonovo avesse di certo del passo superiore rispetto a una BMW ufficiale che qui è vero mancava di Van der Mark è tornato a gareggiare il piloto canio Ilya Mikalczyk ma evidentemente manca qualcosa la quinta e ultima scuderia dell'otto Superbike per fare il salto di qualità se anche BMW in futuro riusisce a sviluppare una moto competitiva la Superbike sarebbe ancora più bella di quanto non lo è già in questo momento con un campionato che è vero sembra indirizzato ma attenzione perché già a Donington dove si correrà di fatto a metà luglio ci sarà tempo e modo di rifarsi soprattutto per il cannibale Jonathan Reich che l'anno scorso perse il mondiale praticamente in quella caduta disastrosa appunto a Donington Park ma è una pista che conosce benissimo e dunque attenzione al possibile riscatto del 65 per tenere aperto un mondiale che sembra ripeto indirizzato verso la Ducati così in realtà sembra chiuso anche il mondiale delle Supersport una Supersport di nuova generazione che appunto ha aperto a dicevamo moto di categorie superiori vedi Ducati vedi Triumph ma il dominatore sempre uno e uno soltanto ovvero lo svizzero Dominic Gerter che vince sia gara 1 che gara 2 dunque di conseguenza suona il salmo svizzero per la settima volta consecutiva in otto gare il mondiale anche qui non è chiuso perché siamo sempre a un terzo di stagione ma è evidente come è Gerter sia l'uomo da battere senza se e senza ma e di fatto non lo batta nessuno perché è un filotto del genere di vittorie consecutive non lo si vedeva neanche dei tempi del re che non suffoglia neanche dei tempi di Andrea Locatelli che ha fatto un anno in Supersport e ha dominato qui il dominatore è uno solo ovvero Dominic Gerter che in realtà una gara l'avrebbe anche persa perché gara 1 l'avrebbe vinta quest'uomo Lorenzo Baldassarri che però per avere oltrepassato i limiti della pista deve abdicare in seconda posizione e perdere punti rispetto a questo Dominic Gerter Baldassarri a differenza di Gerter ha uno zero pesantissimo ed è per questo che il mondiale Supersport è ancora aperto è un mondiale però che ancora una volta vede dei big three se in Superbike ci sono Razgattioglu Bautista e Ray quindi sono Egerter Baldassarri e il nostro Nicolo Bullega da Montecchio Emilia peraltro di fatto mio vicino di casa perché essendo di parma ce l'ho veramente a mezz'ora di strada Bullega con la Ducati del team Aruba che fa due gare molto diverse la prima era praticamente in lotta per vincere poi cala di passo nel secondo stint di gara diciamo così nella gara 2 invece parte indietro deve rimontare fa comunque terzo per tenere un mondiale molto costante va detto però che Bullega non ha mai vinto e la Ducati è sempre soggetta così come la Triumph e anche l'MV ha dei cambi di regolamento in corsa la Farfalle è stata aperta leggermente di più abbiamo visto come appunto Bullega abbia migliorato ma in generale come tutta la Ducati abbia migliorato in generale è un'Italia di supersport che fa veramente tanto bene perché nelle top 10 addirittura ci sono una marea di piloti in particolare a Milano sono entrati in top 10 Yari Montella con la Cavasaki del team Puccetti una delle migliori gare della stagione Stefano Manzi con la Giaceta Triumph che ha fatto di Farfalle che ne ha beneficiato addirittura quarto Stefano Manzi in gara 2 migliorato di sempre in supersport per il 62 abbiamo Federico Caricazulo che fa sesto in gara 2 con la Ducati del team Altea c'è addirittura la top 10 doppia per Mattia Casadei che è entrato in corsa al posto di Miki Tuli sulla MV Augusta infortunato il pilota finlandese è stato chiamato il pilota di Rimini e ha fatto due ottavi posti clamorosi sicuramente tanta tanta roba per questa Italia che è presente sia in superbike sia in supersport Newden possiamo chiamarla così con una grande massa di italiani che però appunto non sono così competitivi per la vittoria perché vince solo Egerter che però mi aspetto che l'anno prossimo vada in superbike senza se e senza ma perché si sta avviando al secondo titolo consecutivo ed è fondamentale che lo Svizzero sia l'anno prossimo magari sempre con Tenkate Yamaha l'anno prossimo nella categoria regina ovviamente se lo merita vincendo due campionati di fatto supersport dominando e in lungo e in largo c'è un'altra categoria che ha concluso evidentemente il weekend di Misane della solita supersport 300 che anche qui eravamo al quarto round abbiamo l'allunghi classifica generale di Alvaro Diaz che sfrutta le votazioni in colore di Mark Garcia leader del mondiale prima di questa gara e già campionato del mondo parliamo del 2017 Alvaro Diaz a modo di vincere gara 2 in volata davanti ai due alfieri del team MTM Motorsport ovvero Yuta Ocaia e Victor Steman ma suona la marcia reale per colui che allunga 20 punti di distacco su Mark Garcia Alvaro Diaz che peraltro farà secondo anche in gara 1 terzo Samuel Di Sorama c'è la gioia per il nostro Matteo Vannucci prima vittoria di carriera per il numero 91 ed è veramente bello sentire l'inno nazionale italiano il canto degli italiani per la precisione a Misan Adriatico per una prima vittoria in carriera di quello che è stato il campione italiano di categoria della 300 che pronti via alla quarto weekend di gara fa una grande prima vittoria in due gare della Super Sport che sono sempre i soliti macelli con volatoni clamorosi scarenate con gente che vola fuori ed è un campionato veramente apertissimo perché abbiamo visto che veramente in pochissimi punti i primi quattro sono veramente racchiusi nel giro di 25 punti poco più in realtà possiamo contare anche di Yuta Ocaia che è quinto il mondiale di fatto è ancora equilibrato perché nella gara 2 Samuel Di Sorà ha dovuto abdicare e si è ritirato per un problema tecnico comunque vedremo già la Super Sport 300 protagonista anche a Donington Park a metà luglio dove appunto ritroveremo sia la Super Sport 300 sia la Super Bike che va appunto in Gran Bretagna con questa classifica bautista è primo con 220 punti miglior stagione praticamente della carriera da quando è tornato evidentemente il Super Bike per lo spagnolo davanti al cannibale Jonathan Rea il campione regnante di categoria Topor Gazatioglu che aveva ha abdicato in gara 1 ma si è riscattato nella Super Cool Race e attenzione perché sarà il Gattogo c'è di testa è difficilmente battibile sarà un campionato guardiamo a Phillip Island a novembre inoltrati dunque state sempre sintonizzati per il Reset Podcast anche della Super Bike qui sul mio canale sportivo in ogni caso il prossimo appuntamento sarà domenica prossima alle ore 19 per il Gran Premio di Germania della MotoGP che dunque torna dopo due settimane di pausa il saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo al prossimo video